Il tuo personaggio non è solo un cattivo, un bad guy, è un oppositore politico, una modalità diversa di vedere lo Stato, di vedere la gestione degli interessi. La famiglia dei pazzi è una famiglia che vede la vita in maniera diversa da quella dei medici. Puoi spiegare qual è la differente visione dei pazzi rispetto a quella dei medici? Sì. 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 Perché come abbiamo visto i medici e la loro famiglia hanno questa propensione a cambiare tutto quello che c'è intorno a loro. Sì. 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 Sì.